Qui ci troviamo proprio dove era presente il cantiere. Sì, vediamo l'edificio alle mie spalle dove c'era questo cantiere che da alcuni mesi era diventato abusivo perché la ditta che aveva posizionato questi trabatagli, queste strutture edili, non stava pagando per niente la concessione di suolo pubblico. Solo pochi mesi fa la società aveva ottenuto la concessione di suolo pubblico per eseguire i lavori edili. Forse pensavano che i controlli non vi fossero, forse non avevano i soldi per pagare le successive rate di alcune decine di migliaia di euro all'ufficio Tributi del Comune. Di fatto il cantiere a pochi passi da Piazza Matteotti è divenuto abusivo. Dopo i controlli la polizia locale ha dapprima notificato i verbali alla ditta dell'Interland Trevigiano per occupazione abusiva. Una volta appurato che l'impresa non ha mai presentato nessuna impugnazione o ricorso, è stato disposto il sequestro e la confisca di tutte le impalcature, operazioni svolte dal settore lavori pubblici. Il provvedimento vuole lanciare un segnale anche nei confronti di tutte le ditte che rispettano le regole. Per Treviso si tratta della prima volta che questo provvedimento così restrittivo e così pesante colpisce una ditta. Naturalmente il monito ha anche per tutte le altre ditte che hanno concessioni di suo pubblico per decine di migliaia di euro. Ora le strutture essendo state confiscate sono divenute patrimonio del Comune che potrà metterle all'asta o utilizzarle per il bene della comunità.